Porte aperte. Il treno alta velocità frecciarossa, 9806, di Trenitalia, delle ore 6.30. Per Milano Centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma a Foggia, Termoli, Pescara Centrale, Ancona, Riccione, Rimini, Bologna Centrale, Reggio Emilia, Umedio Padana. I livelli executive business sono in testa al treno. Su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Attenzione! Si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Annuncio ritardo. Il treno Intercity Notte 755, di Trenitalia, delle ore 6.48, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Lecce, arriverà al binario 1. Con un ritardo previsto di 10 minuti. ... Con un ritardo paese, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su questo treno è disponibile il servizio Cucette. Il treno regionale 12 5 7 0 di Trenitalia delle ore 6 e 41 per Foggia è in partenza dal binario pre-ovest. Ferma in tutte le stazioni. Grazie a tutti. 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 a tutti.